È un nuovo giorno a scuola LOL e non si parla d'altro se non dell'avventura di Dusk e Diva del giorno prima. Quella cattivona di Diva aveva importunato Dusk, chiedendole il compito in classe della verifica di matematica, altrimenti avrebbe parlato male di lei, lasciando tutte quante sgomente. Una bulla in azione, Dusk era disperata ed era corta sul divano a piangere. Per fortuna la sua amica azzurra l'aveva tranquillizzata e anzi le aveva fatto notare qualcosa. Infatti il compito che aveva Dusk era diverso da quello di Diva e infatti consegnandolo Diva aveva preso un bel 3 perché la sua insegnante Posh l'aveva beccata. Diva arrabbiatissima aveva giurato vendetta e infatti oggi accadrà qualcosa. Buona visione, godetevi questa puntata della scuola LOL e soprattutto iscrivetevi al canale e mettete like a questo video. Supportate il canale e viva il TP Team, buona visione! Dusk, le hai dato proprio una lezione, sono veramente brava. Ma io veramente non ho fatto niente. Invece sì, le hai dato quello che meritava, un bel votaccio. Già, e la cosa bella è che lei ha fatto quello che le ha chiesto, voleva il compito. Perfetto, lei glielo ha passato, ma era il compito sbagliato e ha preso 3. Beh, azzurra, se non me l'avessi detto tu, probabilmente io le avrei fatto anche l'altro compito, in modo da darglielo perfetto. Però avete ragione, non posso essere sempre così debole. Devo essere la prima a difendermi. Giusto, guarda che spesso i bulli lo sono perché sfruttano la delicatezza e la sensibilità delle persone. E quindi non vanno da quelli più forti, vanno da quelli più polli, più imbranati, tipo me. No, 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 non sto dicendo questo, sto dicendo che vanno da persone più sensibili. Il bullo prima analizza, vede chi è un pochino più malleabile e poi vanno. Figuriamoci se vengono da me. Gli darei una chiterrata in testa come minimo. No, queste cose violente, no. Ma guarda che sto scherzando, non lo farei mai. Ah, ecco. Comunque grazie, veramente, mi avete aiutato. Più che altro a fare un po' di giustizia. Sentite, sta per iniziare le lezioni, cominciamo a scendere? Ok. Queste storie sul bullismo, guarda, il bullismo è proprio una cosa brutta, non dovrebbe proprio esserci. Eh, lo sai, una volta anche a me, eh. Che cosa ti han detto? Eh, mi han chiamato Purchetta. Senti, oggi c'erano compiti. Mi pare di sì, però non mi ricordo quali. Ah, ecco. Sei conciata come me. Eh, un po' sì. Vabbè, cerchiamo di capire qualcosa. Ragazzi, sono sconvolta di quello che è successo ieri. Ma vi rendete conto? Cioè, diva, ha preso tre. Cioè, si sono vendicate di lei. Ma poverina. Beh, sì, un pochino mi fa pena. Soprattutto adesso dovrà fare i corsi di recupero. Vabbè. In fondo, non è così cattiva. Però quando io avevo ancora i capelli normali, prendeva in giro pure me. Adesso non mi prende più in giro. Però, insomma, diciamo che ha fatto soffrire un po' anche me. Vabbè, ma tu guarda che bel look che hai adesso. Cioè, adesso come fa a prenderti in giro? Sei perfetta. Non so. Però mi piacevo anche prima. Cioè, ho bisogno di tutti questi vestiti, di queste cose per farmi accettare? E che ne so. Beh, io sì, senza questi vestiti mi sentirei proprio, non lo so, presa di mira. Quindi fammi capire. Tu ti vesti, caruccia, ti fai i capelli tutti i giorni per non essere presa in giro? O perché ti piace? Eh, ci dovrei pensare. Ragazzi, guardate, sta arrivando. Facciamo finta di niente. Ciao, sisters. Ciao, tiva. Come va oggi? Come vuoi che vada dopo ieri? È terribile quello che mi hanno fatto. Ti riferisci al compito? Però veramente, come hai fatto a non capire che le risposte erano differenti? Ma che ne so, io ho scritto e basta. Non ci ho capito niente. Ho capito, però, magari se tu avessi studiato un pochino, 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 l'avresti capito che stavi scrivendo una cosa per l'altra. Io non ho tempo di queste cose. Studiare è una cosa veramente inutile. Beh, scusami, però è il nostro futuro. Cioè, come fai? Cosa pensi di fare dopo? Dopo? Io? Shopping, va bene? Ah, ok. Però, tutto sommato, con Dusk, no? Potremmo, cioè, potresti anche fare un passo di amicizia nei suoi confronti. Io? Amica con quella? Dopo quello che mi ha fatto? È tutta colpa sua se ho preso un 3. Ma veramente l'hai preso perché... Zitta, è tutta colpa sua. Comunque, non nutro rancore. Io sono una ragazza brava e responsabile. Ah, almeno questo mi fa piacere. Allora, cioè, senti, sta per cominciare l'elezione. Andiamo? Vabbè, andiamo a scaldare questo banco. Sono andate? Ma col cavolo che mi è passata, io mi vendicherò, perché quello che mi ha fatto è terribile. Solo che devo farlo in maniera pulita, cioè, non farmi beccare da nessuno. Devo agire in incognito, perché se combino un'altra delle mie, qua, sicuramente la presidenza chiamerà i miei genitori. E lì, fine dello shopping. Cioè, non potrei sopportare una punizione di questo genere. Toglietemi tutto, ma non la carta di credito. Toglietemi tutto, ma non la nuova collezione. Come suona bene. Ok, devo inventarmi qualcosa. E ho già qualcosa in mente. Ma adesso comincio lezione. Profilo basso. Ma... Ah, sta arrivando Dusk. Allora, non devo testare i sospetti. Quindi, ho deciso che andrò a salutarla. Hai visto? Guarda, guarda! La vedi? Sì, sì, Diva sta andando da Dusk. La guerra, la guerra. Che succederà adesso? Si picchiano, si azzuffano, faranno a capelli. Ma speriamo di no. Eh, ma quella è Diva. La mia ha visto? Eh, sta andando verso di me! Adesso mi dà una testata, come minimo. Adesso mi picchia. Adesso la mia vita finisce qui. Ho un po' paura. No, ho detto. Adesso mi ho fatto questo discorso. Basta. Devo avere coraggio. Perché se sono debole, poi mi prendono di mira. E divento il bersaglio perfetto per i bulli. Invece no, devono capire che io... Me la faccio sotto, me la faccio sotto. No, devo avere coraggio. Ok, andrò a salutarla. Mamma mia. Speriamo bene. Ciao, Dusk. Ciao, Diva. Come va? Ah, tutto bene. Tutto a posto. Pronta per la lezione di oggi? Sì, sono sempre pronta. Mi piace fare lezione. Anche a me tantissimo, guarda. Specialmente il giovedì pomeriggio, quando dovrò fare i corsi di recupero per recuperare matematica, perché il mio compito è andato malissimo per colpa di qualcuno. Cioè... Tua. Cosa hai detto? Scusami. No, no. Stavo pensando in altra voce. Vabbè, però, in effetti... Devo far finta di niente. Forse è vero, potevo studiare un pochino di più. Vabbè, cominciamo la lezione. Non ti preoccupare, non ce l'ho minimamente con te. Ah, grazie. A me molto piacere. Ciao, adesso devo andare, però. Forse mi ha visto più sicura. Forse ha capito. Forse non mi darà più fastidio. Forse, forse, forse... Vabbè, speriamo. Comunque, non mi ha dato una capocciata. Non mi ha dato una testata. Non mi ha dato neanche una scarpata, perché forse con la scarpa mi avrebbe fatto ancora più male rispetto a darmi la capocciata. Comunque, andiamo a lezione. Mmm, basche dalla preside. Chissà cosa staranno dicendo. Dovrei fare in modo di capirlo. Mmm, mi interessa molto. Come mai Diva è così attenta a quello che sta facendo Dusk? Mmm, forse i suoi propositi di amicizia non sono così sinceri. E forse sta tramando qualcosa alle sue spalle? O sta per cogliere l'occasione per far fare una brutta figura a Dusk? Per saperlo dovete assolutamente guardare la prossima puntata. Mi raccomando, non perdetela. E per essere sicuri di vederla, iscrivetevi al canale, mettete like al video e attivate la campanella, così avrete la notifica di quando esce il seguito di questa storia. Eh, Diva ne combinerà di tutti i colori alle spalle di Dusk. Mmm, è passata, posso andare? Non vi dico altro, non vi spoilerò, ma ci sarà da ridere. Un bacio a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! 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 Grazie a tutti.